La CGL funzione pubblica contro il coronavirus. Un documento diffuso stamattina chiede un incontro urgente in videoconferenza con il prefetto di Sassari Maria Luisa D'Alessandro. Al centro del discorso un'analisi dei ritardi nella gestione del caso Covid-19 e una serie di proposte a tutela del personale sanitario. Nello specifico le richieste sono state spiegate dal segretario Paolo Dettori nel video trasmesso da Canale 12. In linea generale il sindacato sottolinea i troppi indugi nonostante le segnalazioni nella risposta all'avanzata del virus. Confermata come denunciato a più riprese dagli operatori ospedalieri la mancanza o scarsità dei dispositivi di pronto intervento la CGL stigmatizza il mancato rispetto nei presidi del sassarese delle norme di sicurezza sul lavoro con la conseguenza paradossale di ospedali che anziché contenere diffondono il SARS-CoV-2. Le folle nella rete di contenimento registrate in particolare a Sassari devono essere chiuse secondo la funzione pubblica con la nomina così recita il comunicato di un commissario ad hoc per la gestione della crisi in Sardegna o di otto direttori straordinari di comprovata esperienza a capo delle unità di crisi locale e in contatto diretto con l'assessorato. Una superguida che riesca quindi ad agire su aspetti al momento irrisolti dalla logistica all'organizzazione del lavoro. Proprio su quest'ultimo aspetto la CGL denuncia come grave il fatto che nessun dipendente amministrativo dell'azienda sia stato messo in condizione di lavorare in telelavoro. Su questo e altri problemi tra cui la necessità di assunzione straordinaria del personale sanitario l'associazione di categoria chiede un confronto con il prefetto.